E' di otto feriti il bilancio dei due incidenti verificatisi nella notte di Ferragosto sul territorio di Capaccio Pestum. Il primo è avvenuto intorno alle due all'incrocio fra via Marittima e via Poseidonia. A scontrarsi due auto, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata. Feriti in maniera lieve due giovani che stavano rientrando da una serata con amici sulla spiaggia. Il secondo incidente si è verificato in via Sandro Pettini. Sei in tutto le persone ferite, fra le quali una bambina di sei mesi. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi che hanno provveduto a trasportare i feriti presso l'ospedale di Eboli e Battipaglia. Ad intervenire in entrambi i casi i carabinieri della locale stazione.